Si è tenuta nella sede di Pescara dell'assessorata alla mobilità sostenibile una riunione del tavolo tecnico istituito per il coordinamento dei lavori relativi alla realizzazione della pista ciclopedonale via verde della costa dei Trabocchi. I lavori, dopo lo stop a causa del lockdown, riprenderanno immediatamente. Si tratta di un'opera strategica per il territorio con i suoi 44 chilometri di pista ciclopedonale. Il tavolo, composto dai rappresentanti di regione e provincia di Chieti, provveditorato alle opere pubbliche, staff tecnico e imprese, è tornato a riunirsi dopo l'emergenza epidemiologica per organizzare il cronoprogramma del cantiere. Lunedì riprenderanno i lavori e un intervento importante per la nostra regione, ha spiegato l'assessore alla mobilità sostenibile Nicola Campitelli. Sarà mia premura vigilare affinché i lavori possono concludersi al più presto, ha concluso l'assessore. La pista ciclopedonale ha già avuto giudizi positivi dagli appassionati del turismo sostenibile.